come ci usano i megafoni mi sembra con ragazzi i megafoni si usano davanti alla polizia ma i ragazzi tutti insieme adesso tutti con i megafoni via qualcuno deve pure iniziare no procura infame ah ma devi tenere devi tenere il premuto anche procura ladrona sta di protesta questa zio tirate fuori le molotov dai sai come potremmo protestare mica bullizzando i colleghi ma questi sono colleghi dai ragazzi facciamoci sentire procura infami stanno facendo le foto fotografa sto cazzo coglione coglione cosa stai facendo le foto ah che merda procura ladrona il ranger non perdona procura ladrona il ranger non perdona procura ladrona procura procura chi è il grado più alto qua in mezzo procura ladrona il ranger non perdona procura ladrona procura molto bene oh e che cazzo stai a fa qua a mezzo stiamo protestando per le dimissioni della procura che ci ha abbandonato così le chiedo brazo ok capo signore posso parlare ok stiamo protestando doverte farlo anche voi è chiaro è chiaro è chiaro è chiaro è chiaro la procura si è trasferita in un'altra zona prima di lasciare la procura ci ha abbandonati e ci ha lasciati sulle a noi stessi esatto merda soprattutto al nord perché so che i procuratori abitano al nord merda merda si dissocia completamente da questa protesta venite a protestare con noi no ci facciamo completamente questa protesta siamo effettivamente tutti uniti no sono il capodanno tuo padre tuo padre quel cornuto e noi ci dissociamo completamente tuo padre con quelle corna gliele stacco da testa e noi ci dissociamo completamente da questa protesta è una figa venite a protestare con noi ragazzi per il collettivo dai voi assolutamente no noi ci dissociamo da questa protesta procura ladrona procura figli di puttana il ranger non perdona procura ladrona procura ladrona il ranger non perdona il ranger non perdona molto merasce come protesta procura ladrona il ranger non perdona salve state protestando la procura però avete le loro macchie procura ladrona procura ladrona procura ladrona procura ladrona procura ladrona ti avete rovinato la vita mio cazio mi stavo stavo morendo giuro stavo morendo ti prego ti prego però ripassa ripassa con quella roba Velocemente Tira gliela Dai Velocissima Vai Tira gliela tu Matt No no Dai tu L'altro non ti riconosce Modifica la voce Passiamo Zio modifica Non ti riconosce Passiamo veloci Vai vai No no Basta 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 Zio Chiappa le macchine Fagli un strike Minchia No bro Un bestemmione Mentre stiamo passando Quelli più veloci No 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 Dai Matt Falle tu Matt No no Non c'ho la voce modificata Io raga Te la posso Marrazzo Vai marrazzo Grazie Grazie Filo per 26 Un bestemmione Zio Perdona Procura il fame Per te sono la roba Scandalosi Zio mi stavo strozzando Giuro No zio ti giuro Io non pensavo Sgirata tu Infatti sento matto No marraga Vergogna Vergogna No zio Minchia un po' Tumaccio veramente Minestra Puzzolente Poliziotto Un vedente Cos'è? Procura ventiti Procura ventiti Zio guarda quanti poliziotti Sotto nel garage Procura ladrona Procura ladrona Procura ladrona Procura ladrona Procura ladrona Procura ladrona Ti prego Davanti a un tifo altasium Ripassiamo un bel bestemmione Procura ladrona Aspetta un secondo Mi metta la folla Aspetta un secondo No abbiamo un altro Inchia no Investimi pure Già che ci sei Eh eh Si mette sul marciapone Procura infame Scandalosi Potete solo imparare Da noi Sì sì Infame Vergogna 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 Procura Vergogna Procura Vergogna Abita il fuoco Abita il fuoco Spena Pone un attimo indietro stanno sparando. Ma perché zio? Ti pare normale? Spare minchia. Torri indietro, torri indietro. Cordialmente. Raga, non aprite il fuoco, ma siete fuori, siete. Scappa da puntato per questo caso. Ma che spari? Scappa da puntato, minchia, ma si svegliano. Chi è crashato? No, non lo so. Questo è stato bannato, non è crashato. Questi cosi si mettono a sparare così. Ma perché, scusami, stanno sparando loro? Invita il rangerato per lontanarsi. Un bel lugo contro alfa? Ragazzi, nessun ranger che ha aperto. Urlate voi contro alfa. Ma perché spara? Ma qual è il mio? Ripeto ad andare. Capitano alfa, ratto! Alfa, che è ratto! Sì, ratto, al minimo devi cacciare un figlio di troia. Torri indietro, torri indietro. Capitano alfa, figlio di troia! Basta, basta. Basta, qua ci mettono le ali, minchia. In realtà ha perfettamente senso perché c'è una situazione di tensione. Esatto. Cioè, stiamo protestando e loro, minchia, stanno ribellando e stanno andando contro di noi. Poi cacciai. Grazie a tutti.